Oggi a NostiV parliamo di Sandonà e parliamo ancora di maltempo e della modalità con cui poter segnalare i danni subiti durante l'ultima ondata. Parliamo di eventi enogastronomici in tutto il territorio durante il weekend e parliamo di sport della Pallavolo Portogruaro che è in Serie B da quest'anno e di molto altro ancora. Buonasera e bentornati al Tg di NostiV. Torniamo a parlare di maltempo dei giorni scorsi per la piena del piave. Il comune di Sandonà ha avviato una ricognizione per fare una stima dei danni subiti da privati, attività economiche e produttive, attività agricole e zootecniche e denti privati non commerciali. Le segnalazioni andranno presentate al comune entro e non oltre le 12 del 23 novembre. I moduli con tutte le indicazioni necessarie sono disponibili sul sito del comune e sulla pagina facebook ufficiale dell'ente. Intanto questa sera alle 21 si riunisce il consiglio comunale di 90. Si attendono le comunicazioni del sindaco Claudio Marian sul primo bilancio dell'emergenza maltempo e sulle prossime iniziative che saranno attuate. Invece a Portogruaro il maltempo non ha riportato gravi danni, tuttavia sono state colpite alcune strutture del territorio. Sentiamo il punto nel servizio. C'è attesa in città per la sistemazione del pallone presso statico in via Resistenza, sede degli allenamenti delle squadre di pattinaggio artistico di Portogruaro. La struttura è stata danneggiata dal forte vento dei giorni scorsi e l'amministrazione è ora alla ricerca di una ditta specializzata che possa in tempi rapidi sistemare il pallone e renderlo di nuovo agibile per gli allenamenti. Il nostro territorio, ha affermato il sindaco senatore, fortunatamente non ha visto l'esondazione dei fiumi, ma il forte vento ha causato diversi danni, come ad esempio quelli alla copertura del Duomo di Sant'Andrea, per cui è stata avvisata la parrocchia proprietaria. Nei giorni scorsi, infatti, l'amministrazione ha emesso un'ordinanza urgente con cui viene precluso il transito pedonale lungo tutta l'area perimetrale sui tre lati del Duomo, rispettando il limite individuato dai vigili del fuoco e già delimitato dalle transenne. L'ingresso resta comunque accessibile. Con l'ordinanza, il Comune ha anche chiesto alla parrocchia di Sant'Andrea di eseguire immediatamente un intervento di messa in sicurezza della copertura danneggiata e a rischio di distacco. L'obiettivo è quello di completare l'intervento prima che inizi la tradizionale fiera di Sant'Andrea. E parliamo di solidarietà sul maltempo. I 60 anni dell'AIA, l'associazione jesolana albergatori, dedicate alle popolazioni del bellunese colpite dal maltempo. Il consiglio direttivo, presieduto da Alberto Maschio, ha fissato per mercoledì 5 dicembre la cena di gala con oltre 400 invitati che si terrà alla discoteca Il Muretto. Ed è proprio in questo contesto che AIA ha deciso di raccogliere fondi da destinare alle popolazioni delle zone del bellunese devastate dalle alluvioni dei giorni scorsi. AIA negli anni ha sempre fatto la sua parte per aiutare persone o realtà in difficoltà, spiega il presidente Maschio. E anche questa volta, di fronte a un dramma simile, non poteva sottrarsi. Al Teatro Russolo di Portogruaro, sabato 10 novembre alle 10, si terrà il convegno Risparmio Tradito, organizzato dal Circolo Cavour 35, patrocinato dal Comune di Portogruaro e dalla Camera degli Avvocati di Portogruaro. Affronteranno i più significativi aspetti sul tema Raffaele Tito, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, Daniele Trabucco, docente di diritto costituzionale, Alessandra Bellardini, dirigente Polizia Postale e Comunicazioni Veneto di Venezia, moderati dal giornalista Gianluca Versace. Passiamo ora alla pagina degli eventi. Venerdì 9 e sabato 10 novembre dalle 11 alle 20 e 30 si terrà il Centro Commerciale Adriatico 2 di Portogruaro Camminar Mangiando, un evento per diffondere e promuovere la cultura enogastronomica e artigianale locale. Nella Galleria della Struttura sarà allessito un percorso di degustazione con stand dedicati ai prodotti del territorio. Si potranno assaporare vini, birra, succhi di frutta, miele, piatti locali, prodotti da forno e spezie, oltre che ammirare questi artigiani al lavoro nella realizzazione di questi prodotti hand-made. Coinvolti nell'iniziativa anche i ragazzi dell'Istituto Alberghiero Lepido Rocco di Pramaggiore e Motta di Livenza che supporteranno le aziende nelle degustazioni e accoglieranno l'utenza nel percorso. Ci spostiamo a Quarto Daltino dove sarà invece il fagiolo verdone, il protagonista della festa di San Martino, domenica 11 novembre. Una festa alla sua seconda edizione, organizzata dall'Associazione di Tutela del Fagiolo Verdone in collaborazione con il Comune di Quarto Daltino e dedicata a questo fagiolo storico e tipico della città. Denominato bistecca vegetale per il gusto e i valori nutrizionali eccezionali sarà servito durante la manifestazione nella classica pasta e fagioli preparata dalla Proloco ma anche in biscotti, gelato, pane e molto altro. Un evento con stand enogastronomici, locali e iniziative diverse anche per bambini che avranno uno spazio dedicato nel laboratorio artistico con Hobby Paint e potranno partecipare al battesimo della sella organizzato dal circolo ipico Mesh in attesa dell'arrivo di San Martino a cavallo accompagnato dallo spettacolo degli sbandieratori di croce. A Caorle il programma di domenica 11 novembre si preannuncia particolarmente ricco. Dal mattino sulla spiaggia di Levante si svolgerà un evento promozionale dedicato al surfcasting, particolare modalità di pesca sportiva organizzato dall'associazione Dending Sherman. Nel pomeriggio invece sarà possibile partecipare ad un appuntamento speciale nel Museo Nazionale di Archeologia del Mare. Alle 15 prenderà il via un percorso guidato alla scoperta della Caorle bizantina mentre alle 16 sarà presentato il libro Teodora la figlia del circo di Mariangela Galatea Vaglio. L'evento terminerà con la degustazione di un tè al profumo d'Oriente. Poi per gli amanti del vino, infine nell'ambito di cantine aperte, l'azienda Vittivinicola La Frassina aprirà le porte per offrire visite guidate, degustazioni, un evento dedicato al Nordic Walking, laboratori per bambini ed un'esposizione di fotografie. E passiamo allo sport. Il DS Store di Portogruaro in Viale Pordenone ha ospitato la presentazione della prima squadra della pallavolo Portogruaro. La Portomotori de Menego Portogruaro, questo è il nome esatto della squadra, disputa per la prima volta nella sua storia il campionato nazionale di Serie B. Abbiamo raccolto le interviste del coach Corrado Pilot e al presidente Giuseppe Zanin. L'approccio è, come pensavamo, abbastanza difficile. Noi siamo una squadra fatta di ragazzi che giocano per divertirsi e in questo campionato troviamo almeno 5-6 squadre fatte di professionisti che puntano ad andare in Serie A e quindi per noi è molto difficile. Diciamo che il salto è stato doppio perché fino a qualche anno fa c'era B1-B2 e quindi dalla C si saliva in Serie B e poi la B1 era la semiprofessionismo. Adesso la B è diventata unica e questo implica che metà delle squadre sono dei rulli compressori. Un'avventura molto importante, una gratificazione grandissima per i ragazzi che se la sono meritata sul campo. Per noi è un'incognita, è il primo anno, però siamo sicuri che anche quest'anno avremo delle bellissime soddisfazioni, delle belle emozioni sul campo. La Palavola Portogruaro è una delle poche in provincia a gestire sia il maschile che il femminile, che è una cosa piuttosto complicata. Fortunatamente stiamo cercando di organizzare una piramide, quella che io chiamo una piramide, cioè la base costituita dal mini e poi con la punta al vertice le squadre la Serie B nel maschile e la Serie C nel femminile. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringraziamo di essere stati con noi e vi ricordiamo che il nostro TV è presente su Facebook, YouTube e Instagram e sul 13TV, sul 13 del vostro telecomando o sul 605. Grazie per la visione!